Ciao a tutti ragazzi, rieccoci finalmente dopo una settimana, scusate il ritardo, ma tra queste festività giusto in mezzo alla settimana c'è andato tutto un po' a cambiarmi gli orari anche di lavoro. Allora, quest'oggi, mi riallaccio dopo un bel po' di episodi, se non sbaglio, del 150, andiamo a parlare, a fare insieme effettivamente tutti i prodotti Airpods per quanto riguarda appunto la connettività, ovvero tutti i prodotti Airpods. La volta scorsa abbiamo andato a vedere l'Airport Express e scoprire insieme effettivamente quali sono le sue funzionalità con alcune mie considerazioni in personale. Quest'oggi andiamo a vedere il secondo prodotto sempre per quanto riguarda il Wi-Fi, ovvero l'Airport Extreme. L'Airport Extreme è quella qui come si compare, ha la forma più o meno di un Mac Mini, dove appunto questo è un vero e proprio hub, non si può neanche chiamare un hub per creare la connessione sia tramite la porta Ethernet sia, come dopo andremo a vedere, anche naturalmente con il doppio Wi-Fi. Su il sito Apple il prezzo di partenza, diciamo, il prezzo è di 159€ per questo prodotto, insomma appunto la grandezza è appunto, come lo ricordo, di un Mac Mini, forse un peletto più piccolino, insomma. E cosa c'è? Le sue peculiarità di questo prodotto è che appunto non hanno un semplice Wi-Fi, ma ha bensì una doppia banda simultanea, ovvero si parla di due frequenze, se non sbaglia, una è da 2,4 GHz e l'altra è da 5 GHz, questo ci permette di avere un maggiore campo per la propria Wi-Fi. Inoltre dà la possibilità di creare accessi guest, accessi ospite, ovvero insomma creare senza dover configurare tutti i vari computer, ma se alcuni solo invece visitando, diciamo, accessi guest, come dare una specie di filtro per alcuni utenti appunto che non utilizzano assolutamente quella determinata linea, ma che magari al momento gli occorre internet per potersi magari ricevere una determinata email che magari serve per una determinata pratica, insomma, questo per vedere dal punto di vista lavorativo. C'è la possibilità, come dopo andremo a vedere anche le porte presenti comunque, di poter fare la condivisione sia di una stampante, cosa che poteva già fare anche l'Airport Express, e inoltre l'Airport Express permette anche la condivisione di un disco rigido, non anche, nel senso che dà doppia disponibilità o una stampante o un disco rigido. Dico o perché purtroppo, come vedremo, vedremo, se sembra di aver inserito l'immagine, vedremo che c'è solo una porta, anche se questo dispositivo è molto grande rispetto all'Airport Express, ha una sola porta USB, perciò si può leggere o solo una stampante o solo un disco rigido. Al suo interno, ormai, essendo anche questo, diciamo un hub, un hub, un hub, un punto, diciamo, per creare con una connessione a internet, ha al suo interno un firewall integrato, per quanto riguarda la protezione dei vari dati personali, e naturalmente comunque c'è la massima comunità con tutti i dispositivi mobili e la nuova Apple TV. Come possiamo andare a vedere, ecco qui ora, il pannello posteriore del dispositivo, dove appunto troviamo, partendo da sinistra, l'alimentazione, come avevo detto, una sola porta USB, e come potete vedere, un'altra, una seconda ci sarebbe stata decisamente meglio, e dopodiché abbiamo queste quattro porte Ethernet. Come possiamo, però, da come si può vedere, una porta deve essere collegata ad un router ADSL, le altre tre si possono collegare i propri Mac tramite il cavo, altrimenti si può fare tutto tramite Wi-Fi, naturalmente quello sì, però, diciamo, sono tre porte, questo, diciamo, è già un punto negativo, a mio avviso, visto che comunque tutte le altre marche che c'è in commercio hanno quattro porte, hanno quattro porte, tutte e quattro è possibile collegare a un determinato computer. Gli vantaggi, come appunto avevo accennato, anche qui è come l'Airport Express, se dovete utilizzarla come un vero e proprio modem, un proprio router, non lo potete fare, ma dovete collegarle un altro modem, un router ADSL, per poter creare una rete internet, altrimenti potete creare una rete normale, chiusa, ma senza internet, tra i vari Mac e magari lo stereo, per quanto riguarda l'Airport Express, o una stampante, in questo caso, giusto per fare un esempio. E dopo un altro svantaggio, secondo me, che i 159€, diciamo, è un prezzo decisamente alto per le funzionalità che offre, e si potrebbe tranquillamente andare a ripiegare su altri utili di terze parti che hanno, se hanno anche qualche funzione in più rispetto all'Airport Extreme. Perciò, secondo me, appunto, il prezzo, non ne vale la pena di comprare questo dispositivo, è ideale nel caso in cui, invece, abbiate una connessione internet tramite i ponti radio, insomma, visto che ci sono alcune zone, stranamente, cioè stranamente, per modo di dire, visto che ormai qua in Italia non è che la DSL è diffusa totalmente su in tutto il territorio, in alcune zone, appunto, ci sono ancora, sono stati creati questi ponti radio per la connessione tramite internet. E ora, questo, diciamo, l'Airport Extreme è la soluzione ideale, in quanto, comunque, quando, visto che per quanto riguarda queste connessioni, mi sono anche informato, in un punto a cui viene collegato una specie di piccolo ripetitore sul tetto della casa, insomma, più o meno all'altezza dell'antenna, della televisione, o del satellite, o della paravola del satellite, e andrà, e arriverà dentro in casa un cavo, non il classico cavo, il pin, come si chiama, il classico cavo della presa telefonica, ma arriverà il connettore per la porta Ethernet. Perciò, da lì, effettivamente, ci si collegherebbe direttamente dall'antenna fuori all'Airport Extreme. Inoltre, appunto, le porte al dispositivo, diciamo, sono poche, perché nel caso si volesse usare, per carità, oramai è tutto in Wi-Fi, quello lo so, però, se si vuole collegare qua, un MyMac, o uno o due Mac fissi, magari, in una famiglia, basta un po' numerosa, diciamo, il cavo, diciamo, per certe operazioni, è consigliato che non fa il Wi-Fi, insomma, bisogna sempre tenere conto che, ok, il Wi-Fi, ma alcune operazioni, è meglio, è consigliato utilizzare una connessione più stabile, la stabilità, sicuramente, allo stato attuale, la dà ancora il cavo, rispetto a una connessione Wi-Fi. e, però, la cosa veramente interessante, è avere aumentato, avere appunto, questo dual band simultaneo della Wi-Fi, insomma, perciò, aumenta il raggio, a dismisura, e questo sicuramente è un gran vantaggio, rispetto ai router di alta età di terza parte, dove penso sicuramente, che già quest'airport extreme, appena accesa, aumenta molto, molto di più, senza dover aggiungere, o aggiungere antenne aggiuntive, o potenziare, o potenziare, cosa, qualunque altro. Basta. Tutto qui sono, perciò, oggi abbiamo visto l'airport extreme, dove, il prossimo video, spero almeno, che se non succede qualche novità, o viene rilasciata qualche particolare notizia da Apple, comunque il prossimo video parleremo, dell'ultimo, dell'ultimo prodotto, ovvero della Time Capsule, e cos'altro. Basta ragazzi, al prossimo video. Ciao. Ciao.